Allora prima, subito, non c'entra niente. Ormai io non sono raggista. Però? Sei raziale. Albanese, albanese, ok. Ok, vai. Non c'entra niente, vai. Lo dedico ad Adriano che tira bomba a mano. È forte Adriano. Adesso vomita in video, in diretta. Vino rubato, vogliamo ricordare. Un voto al vino? Oh yeah, bravo. E commento sulla Ionida? Non ero molto contento. Faccio dillo tra le mille bottiglie che ci sono qui.